Secondo la provincia Barletta-Andriatrani, i lavori di ricostruzione del ponte di Contrada-Martinelli sulla ex statale 98 saranno completati entro fine settembre ed è corsa contro il tempo per non creare ulteriori disagi in vista della riapertura delle scuole. Procedono a ritmo serrato i lavori di completamento del ponte di Contrada-Martinelli sulla provinciale 2, ex statale 98 in territorio di Andria, chiuso da oltre 15 anni. A ricordarlo è stato il consigliere regionale Francesco Ventola che quando era presidente della provincia di Barletta-Andriatrani si è speso in modo determinante per promuovere i lavori che consentiranno la riapertura del ponte che attraversa la strada provinciale 2. A destare preoccupazione ovviamente sono i tempi di completamento dei lavori secondo quanto rilevato dal presidente attuale della provincia Pasquale De Toma presso l'Ufficio Tecnico Provinciale è in atto una corsa contro il tempo per arrivare alla riapertura del tratto della ex 98 per la fine del mese di settembre 2019. Il problema è infatti che l'interruzione del tragitto comporta la deviazione del traffico, anche pesante, dalla ex statale verso la strada urbana di Viale Pietronenni tra l'incrocio con via Castel del Monte e via Santissimo Salvatore un percorso che incontra il plesso Aldomoro dell'istituto comprensivo Iannuzzi di Donna facile immaginare il caos che si ripresenterà negli orari scolastici alla riapertura delle scuole. Dalla provincia assicurano la massima attenzione verso il problema ma intanto, come detto, i lavori proseguono spediti secondo il piano previsto.